Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Eremita a San Costanzo per l'ultimo saluto ad Andrea Triani Il prossimo fine settimana arriva al Codma di Rosciano la ventinoesima edizione di Fanno Geo Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia L'edizione del telegiornale di Fanno TV Attimi di apprezzione questa mattina in Via Roma per un incidente Che ha visto coinvolto un pedone, una donna è stata travolta sulle strisce pedonali Ne avrà per 40 giorni la giovane donna di 20 anni investita questa mattina intorno alle 7.45 In Via Roma all'altezza di Via Venturini Mentre attraversava sulle strisce pedonali la nazionale da uno scooter 125 Guidato da un fanese di Bellocchi di 32 anni Per ragioni ancora al vaglio della polizia municipale Lo scooter che procedeva in direzione Arco d'Augusto Ha urtato la ventenne che attraversava in quel momento la carreggiata Dirigendosi verso il lato nord della strada Nell'urto il motociclista è riuscito a mantenere l'assetto dello scooter E parcheggiare poco distante e prestare così subito soccorso alla donna Che nel frattempo caduta a terra invece sull'asfalto Si è procurata lesioni giudicabili guaribili in poco più di un mese Dai sanitari del pronto soccorso dove è stata trasportata dal 118 Intervenuto sul posto oltre ad una pattuglia dell'infortunistica della polizia locale di Fano Rimaniamo sulla cronaca Le notizie che ci giungono dalla rienemazione dell'ospedale Torrette di Ancona Riguardo le condizioni di salute di Roberto Cecconi Il ristoratore fanese caduto dal quarto piano dell'hotel Grace di Fano Alle 10.30 di sabato mattina scorso riportano una condizione di stabilità dell'uomo Con una tendenza al miglioramento A riguardo invece di Sauro Fronzi L'operaio 49enne della ditta De Angelis di San Costanzo Caduto da un ponteggio in un cantiere venerdì pomeriggio La famiglia ha deciso di affidare ad un bollettino medico Che probabilmente verrà diramato nella giornata di domani Lo stato e le condizioni di salute del suo caro Per dare una univoca informazione a tutti gli organi di stampa E cambiamo argomento Un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti da diverso tempo Lungo le mura dell'ospedale Poi in centro, vicino a un'automobile Le api, lo sciamare delle api Un fenomeno legato al momento Ma vediamo qual è il giusto atteggiamento da tenere Casomai ce ne trovassimo con uno di fronte Sarà capitato anche a voi di notare in questo periodo Folte colonie di api in giro per la nostra città E che a volte, se non affrontate nel modo giusto Possono rappresentare un pericolo per chi ci si imbatte La gente non deve spaventarsi Non è facile Intanto, prima di tutto, la gente confonde le api con le vespe Che sono due cose ben distinte La vespa fa il cartum L'ape fa il miele e la cera Quando la gente vede uno sciamare delle api Non deve agitarsi Sta ferma, calma, tranquilla Chiama i pompieri I pompieri chiamano il presidente o la segretaria Noi siamo associati al consorzio apistico provinciale E poi mandano un apicoltore a prenderlo Maggio è il periodo in cui da noi le api sciamano Cioè abbandonano la loro arnia Per andare a cercare un altro luogo dove vivere e moltiplicarsi È un periodo molto impegnativo per gli apicoltori Fatto di continue chiamate Di persone che hanno avvistato uno sciame E che chiedono di recuperarlo E ogni volta è una nuova sfida Come ci ha raccontato un apicoltore fanese Loro in qualsiasi punto che gli fa vanno Su un albero, su un olivo Oppure dentro un muro dove trovano un buco Dentro, l'avete visto, dentro le auto Perché lì essendoci queste feritoie Se vede che quel che è in gita a controllare prima Qui ci fa Poi avranno sentito un certo calore di questa macchina Sai, in questi tempi che è ancora freddo Perché qui quest'anno la temperatura è fredda La sciamatura è un fenomeno che fa parte del ciclo vitale dell'alveare Avviene in primavera quando tutti gli organismi viventi Sentono lo stimolo di riprodursi e procreare Nelle ore più calde della giornata Le api escono dall'alveare in modo frenetico Formando una nuvola che si sposta velocemente Verso il luogo prescelto per posarsi E costruire la nuova casa Riuscire ad assistere con i propri occhi A questo spettacolo della natura È una vera fortuna Purché muniti delle opportune protezioni Per tutto il corpo Bene, e rimanendo in tema di allevamento e di agricoltura Il prossimo fine settimana al Codma di Rosciano Sarà Fano Geo La trebbiatura Un tempo in cui l'agricoltura viveva la sua storia di motore trainante dell'economia In un'Italia pre-rivoluzione industriale Oltre che sudore e fatica Non c'erano i supertrattori da oltre 150 cavalli Guidati dal laser con le cabine insonorizzate e condizionate Al massimo c'era un Landini testa calda Era un momento di festa Di confronto con altri agricoltori Oggi le cose sono cambiate Forse la tecnologia avrà mitigato le fatiche del contadino Ma sono ben altre le sue preoccupazioni Con il prezzo dei cereali al limite della rimessa c'è poco da stare allegri Allora forse più che in altri momenti storici Manifestazioni come Fano Geo e la settimana dell'agricoltura Servono per accendere i riflettori Su un comparto produttivo di vitale importanza per la nostra economia Per comprendere gli effetti della globalizzazione E come difendersi per non scomparire Dal 19 al 28 maggio ascoltiamo la terra quindi Con tutti gli eventi programmati dalla Proloco di Fano Che eredita una manifestazione tra le più antiche della città Avremo una fattoria didattica con vitelli, caprini, ovini, animali da cortile Avremo le giacche verdi con i cavalli Avremo anche dimostrazioni a questi da parte dei cavalieri dell'Ordine della Rosa Avremo i falconieri Avremo il club cinofilo provinciale con delle attività bellissime Quest'anno e la domenica ci faranno vedere come i cani riescono a portare le pecore all'interno del recinto Quindi proprio cani da pastore E poi tutto quello che è il mercato tipico dell'agricoltura Quindi avremo veramente le tradizioni dei mercati E tutto questo sarà la Fano Geo Si parte dal CODMA quindi il prossimo fine settimana con la 29esima edizione di Fano Geo Un momento diciamo di scambio di idee per far emergere anche quelle attività meno conosciute Quindi un invito anche a partecipare anche tutti gli agricoltori Coloro anche che vendono macchine agricole per far mostrare le loro novità Fano Geo che noi come Fano TV seguiremo con uno speciale che poi vi faremo vedere nei giorni a seguire La città di Fano perde un altro dei suoi uomini più illustri E' morto ieri poco dopo le 14 nella sua casa al Lido di Fano Il professor Marco Cuzzupoli E' stato il fondatore del reparto di geriatria dell'ospedale Santa Croce Che poi ha diretto per lunghissimi anni Numerosi gli incarichi e gli impegni nella vita sociale cittadina E' stato presidente della sezione Avis per 15 anni E vice governatore del Lions Club L'interessamento per il comune lo ha portato anche a sedere i banchi del Consiglio Comunale di Fano nel 2004 Ieri pomeriggio si è spento dopo una lunga malattia Tra le persone a cui Cuzzupoli era legato c'era Don Achille, il prete dei poveri tanto amato dai fanesi Lascia la moglie Nunzia, i figli Pietro, medico anch'esso e Luca, avvocato Il funerale di Marco Cuzzupoli si svolgerà venerdì alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe al Porto Ed oggi è stato anche il momento di un altro saluto doloroso Quello di San Costanzo dal suo presidente amatissimo della Proloco Andrea Triani Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 nella chiesa di Sant'Agostino San Costanzo ha dato l'ultimo saluto ad Andrea Triani L'amato presidente della Proloco che dopo una lunga malattia sabato scorso ha lasciato la sua comunità Triani, 74 anni dopo essere stato funzionario comunale aveva scelto di dedicare anche il suo tempo libero da pensionato al suo paese che oggi si è riunito e stretto attorno alla moglienza e a tutta la famiglia Se ne va un maestro di vita sempre pronto a consigliare e ad aiutare il prossimo Queste le parole commosse del presidente delle Proloco provinciali Damiano Bartocetti Parole ed emozioni riprese ed inserite anche nell'omelia del parroco Bene, cambiamo argomento, veniamo agli eventi È stata la squadra delle Volpi ad aggiudicarsi il palio del Cardinale nella 17esima edizione del Trionfo del Carnevale lo scorso fine settimana a Fossombrone Rispettando tutte le aspettative sia di ordine pubblico e di sicurezza che di spettacolo questa edizione è stato un vero successo di pubblico anche oltre le aspettative degli organizzatori Durante i tre giorni di festa le 11 contrade cittadine hanno allestito le proprie taverne con menu rinascimentali e preparato i giochi e le sfide che hanno appassionato i visitatori affascinati anche dalla sfarzosità dei costumi degli oltre mille figuranti Rimaniamo sempre in tema medievale, questa volta veniamo a Fano dove c'è la Pandolfaccia che proietta nella pineta del Ponte Metauro le sue arti e i suoi mestieri È ancora un po' presto, però perlomeno sappiamo quale sarà il drappo che si dovranno aggiudicare le contrade in questa edizione del 2017 Vediamo quale Una tra le stagioni più belle della nostra nazione quando nascevano le città e i commerci, le arti e i saperi in generale in uno scontro tra i signori sempre più potenti e il Papa per sottrarsi terre e ricchezze È questo che fa rivivere la Pandolfaccia un'associazione che si dedica alla rievocazione storica e medievale allestendo accampamenti militari, spettacoli e dimostrazioni che coinvolgono mangiafuoco, sbandieratori, giocolieri e molto altro ancora Per quanto riguarda l'edizione 2017 che si terrà il prossimo 28 maggio Fano si è giudicata all'organizzazione dell'evento patrocinato dal Comune, Provincia, Regione Marche e dalla Proloco e saranno ospiti in città ben sei compagnie per un totale di circa 200 partecipanti da varie parti d'Italia che esprimeranno il loro estro artistico con esibizioni che determineranno la miglior compagnia storica d'Italia Per noi è un onore, insieme al Paglio delle Contrade e l'idea che ci porta avanti è sempre quella di far riscoprire i fanesi un'altra parte di Fano altrettanto importante come quella romana che è quella medievale noi crediamo tanto nel nostro ruolo che è quello di far riscoprire la nostra città la storia medievale che secondo noi è talmente importante come quella romana e che ha lasciato tanti ricordi nella nostra città Si partirà dunque dalla Rocca Malatestiana per procedere verso Corso Matteotti e arrivare in piazza dove avverrà la gara tra i gruppi sotto lo sguardo di due giurie, una tecnica e una popolare che valuteranno la storicità dei gruppi sotto l'aspetto coreografico e rievocativo e ad essere premiati anche i ragazzi dell'Istituto d'Arte Apolloni con la vittoria di Giulia Cambioli per la realizzazione del bozzetto del drappo del Paglio delle Contrade C'è rappresentato dietro c'è rappresentata una pregamena che scende da questa scritta in cui ci sono disegnati la chiesa i due cavalli e il simbolo della Madonna della Pandolfaccia Bene, io mi fermo qui per questa edizione di Occhio alla Notizia che torna domani sera naturalmente alle 20.30 ma domattina per l'informazione alle 7.30 in diretta c'è Occhio ai giornali Buonasera e buon proseguimento con le nostre trasmissioni dopo di noi ci sarà una puntata di Dopocena dove si parlerà di un prodotto particolare un prodotto da forno il pan d'orzo ascoltate bene perché ne va della nostra salute grazie e buona serata a tutti voi